ciao a tutti io sono genna e benvenuti sul mio canale oggi ho un unboxing unboxing ho la statoletta di my beauty box è la prima volta che la prendo stava già dentro a quest'altra più grande e andiamo a scoprire cosa c'è dentro è fatto così qui a un volantina su yoga tour quattro bellissime location e maestri d'eccezione per una giornata all'insegna del benessere riprende anche quest'anno lo yoga tour di io dona con l'edizione primavera estate segue la tua lezione di yoga con insegnanti professionisti un ospite speciale la reazione di io donna scopri i beni dei fai da fai con dei fai con una visita guidata e fermati con noi per una light lunch io parteciperò quest'anno a tivoli e il 27 maggio poi c'è il 10 giugno a caravino torino la terza tappa a torreglia pd che padova padova c ea milano e andrò anche io basta che cercate yoga tour su internet e vi poter vi potreste registrare e farvi accettare è gratuito è molto carino andate andiamo a scoprire cosa c'è qui dentro qui abbiamo un bagno doccia della rudy italian fruit bagno doccia schiuma will fig a fig c'è una cosa fantastica c'è un bolino che dice non bene di da bene il bagno doccia non si beve non andiamo avanti qui abbiamo un olio anticellulite della sien cioè il marchio quello dell'idl anticellulite c'è un segreto nessun olio nessuna crema toglierà la tua cellulite mi spiace purtroppo queste cose io aiutano la pelle essere più elastica ma non eliminerà mai la cellulite perché lo strato nostro di pelle troppo troppo spesso affinché l'olio possa arrivare fino alla cellulite per eliminare la cellulite dovreste bere tantissima acqua e fare tanto sport non c'è altro segreto mi dispiace però queste io gli aiutano a rendere anche la pelle liscia come si dice a rendere anche la pelle più elastica per attenuare le smagliature quando ingressiamo di una griglia di un mouse batte un faccio qui abbiamo acqua real vitalizzante profuma rinfresca idrata nature questo adora tipo di olio d'oliva cardamomo di cardamomo non so che cos'era per metà di erba tipo va in giro e addori a prattata basta che non te leccano le vacche qui abbiamo un solare protezione solare olio protettiva del hives rocher con fps 15 fps 15 esci fuori e ti ti arrostisci quindi questo penso che sia molto indicato per le approvizzatissime perché se io mi metto questa in mezzo al sole con la speranza che non mi brucio vediamo da scorda sta cosa un'altra cosa che ci sta qui dentro hand clenis gel ha un gel per le mani poi qui ci sono uno smalto il top coat è un acetonio lo smalto è rosso e della che marchio questo estrosa estrosa poi qui dentro c'è anche un campioncino della bc mineral qualcosa che è fortificante ricostruente e basta è finita poi ci stanno dei dei clienti questo è lo smalto io se lo scelgo qualcosa del 40 per cento e qua c'è una spugnetta questa acqua andiamo a aprirla vediamo che cosa ah sono proprio delle spugnetta che carine questo non lo userò per spruccarmi le darò a matteo per fare la fisioterapia tipo per sentire le consistenze questo è molto morbido questo è un po' più rigido e questa è una via di mezzo per pulire che figata sui guanti questi guanti della glow makeup remove e ho finito questo è stato il video di oggi di oggi spero che vi sia piaciuto non dimenticate di seguirmi su instagram parmigiamo insieme perché lì posto tantissime foto tantissime ricette e inoltre nell'info box trovate il link del mio blog dove posto ogni giorno una ricetta nuova presto sul canale a ricanare mi sa che voglio andare canarie che dite comunque preso sul canale arriveranno tantissime ricette super light raga io mangio solo light quindi l'olio nella cottura non lo vedrete mai e nell'info box e link del blog dove trovate tantissime ricette e niente ci vediamo al prossimo video ciao